Grazie a tutti Grazie a tutti La prima e l'ultima volta No da Vai Ros Vai Franca Arbitro! Vai, 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 vai che non lo prende! Vai, 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 vai che non lo prende! No Mauri, Dio buono! Dai, Dio buono! Vamo Galù, vetti il corpo! E' a rosso, io sto riguardo! Arbitro! E' quasi dentro l'aria! E' fuori eh! Vamo Galù, vetti il corpo! Guarda anche su, no! Guarda passi! Guarda! 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 Porca madonna! Ivano, come la vedi questa gara? Bene! Bene! Secondo me andremo sul 2 a 0! Sul 2 a 0? Ci potrà in giro! E chi sarà? Era già ora che c'eravamo! Va bene! Intervista a Ivano c'è! Coccini? Aspetta, no! Coccini ci vuole intervista! Coccini beve! Fai l'intervista! Adesso fuma! Adesso fuma! Fai l'intervista! Vivo! Buongiorno! Ciao! Ci mi stai arrivando in guerra? Ciao! Stava male perché? Eh! Ho fatto un ragazzo! Tutte scompele! Oh! Vivo! 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 Dio! Ti alzio! Chi sta eh! No! Vivo! 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 Restare! Vivo! No! Gli amono sto gol! ho scappato una roba incredibile ma oh è il micro eccolo no Gamba hai giocato tutti i palloni Bravo Ma una gran palla hai detto Dai che rigore dai Ha detto rigore Guarda che riguarda i palloni olate ripete diabolo vai davide dai dentro dai dai Grazie a tutti!